Wai, chiuso! Gattoni! Visto? Non è così male! Aia! Bello! Vero? Oh, Lulu! È davvero carino! Sì, hai ragione, Charlie! È davvero divertente! Forza voi due! Dobbiamo fare i bambini solo per un giorno! E poi, hanno vinto onestamente! 3, 2, 1, via! Ma come ci riesce? Oh, vuoi? Oh, sì! Mi piace! Da morire! Oh, sì! Ferma! Lulu! È quasi... quasi... finito! Ho una gran fame! Super fame! Anche io! È quella la cena? Ehi, Teo! Ehi, Teo! Era la mia cena! è una? Oh, allora! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Sì, sì, sì. finalmente un po' di relax è davvero faticoso essere bambini hai ragione ho voglia di andare a dormire su col morale è il momento dello shampoo no teo non tutta quest'acqua sembra che anche essere adulti sia dura avete sonno bambini? chi di voi è pronto per una giornata con Vex? allora andiamo! mi dispiace bambini sembra che dovremmo rimanere al chiuso questa volta a voi sta bene comunque vero? possiamo divertirci anche al chiuso potremmo fare nascondino nascondino è divertente e chi vince riceve... un biscotto va bene quindi uno due tre quattro cinque no bambini è il vostro torno di nascondervi va bene riproviamoci questo è davvero un ottimo nascondiglio ma chi ci sta cercando? tutto ok riproviamo ancora teo non ci troverà mai teo? ehi non puoi mangiare i biscotti? avanti teo ti divertirai di più giocando e chi vince? riceve due biscotti nove dieci pronti o no? sto arrivando dove potrebbero essere mai andati? ehi credo che ci siate prendendo la mano uscite ovunque voi siate ecco ti ma che? ti ho trovata lulù bravissimi tutti quanti ci meritiamo tutti un biscotto puoi venire fuori adesso teo teo? dove sei? charlie arriverà qui a momenti farai meglio uscire ora e se fosse disperso? dobbiamo trovarlo teo? teo? dove sei finito? oh no potrebbe essere ovunque oh teo ecco ti qui pensavo che fossi sparito wow hai mangiato un sacco di biscotti ehi bambini vi siete divertiti con credo tocca a me nascondermi dieci dieci otto sette sei cinque quattro tre due uno pronti o no? sto arrivando no teo no teo no teo no teo aspetta non sappiamo dove conduca quella porta teo fermo aspetta mi ahah eccoti questa cosa è dovremmo oltrepassare la porta magari sono in pericolo hai ragione potrebbe essere così ok vado per prima guardate che posto è bellissimo ecco non promette bene non temete sono sicura siano nuovi amici eccoci qui avry teo oh grazie al cielo eravamo in pensiero quella porta segreta era una forza già ma è sparita come ci arriviamo a casa? così oh ok ragazzi torniamo a casa aspetta guarda questo posto è come un paradiso del nascondino non possiamo sprecarlo dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno pronti o no sto arrivando oh eccoti 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 che spasso sì ma dov'è teo? oh 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 mi sembra che si sia fatta l'ora di pranzo possiamo tornare un'altra volta a giocare bambini dovremmo nasconderlo da qualche parte oh oh wow 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 il dolcello scherzetto è stato davvero presto oh 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 ehi non potete mangiarli tutti subito bambini dobbiamo dividerli equamente e magari tenerli qualcuno per me ecco forza bambini voglio fare una foto di tutti voi vestiti per Halloween oh Ah! 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 Eccском 45 앉ì incontro. Ah! Cameci ricordato. Ah 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 ah... Ah 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 ah! Ah 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 Ah! che succede Teo? ti fa male il vento? ecco, lasciami guardare ma come ti aiuto se non mi lasci vedere? magari è l'ora di un bel gioco felice Halloween! dicevo, buona visita dentistica giochiamo tutti al dentista chi è pronto a farsi controllare i denti? bambini, se vi sedete in sala d'attesa prepareremo tutto come si deve avanti, dottor Bex la signorina Lulu può accomodarsi avanti! ok, abbasserò la tua lingua con questo bastoncino così poi do un'occhiata pronta? non me la rendi facile bene Lulu, denti sani e forti la signorina Telly può accomodarsi avanti avanti perfetti, direi che li lavi due volte al giorno va bene, Teo può accomodarsi avanti ok bello, mi pare di capire che hai un brutto mal di denti ti spiace se do un'occhiata? credo di aver capito sembra che tu abbia mangiato un po' troppe caramelle cosa? ma si è mangiato solo un lecca lecca beh, la lingua è blu e c'è un pezzetto incastrato tra i denti proprio qui sembra che tu ti sembra già meglio teo mangiare troppe caramelle può causare il mal di denti ma se ti lavi i denti come si deve riuscirai a evitare di avere le carie non è così, Gordon? Gordon! stati così coraggiosi oggi dal dentista dei dolci per voi detto che hai già aggiunto tutti quelle carucca avrai un dolce diverso ok, facciamolo avremo micro esagerato con le decorazioni? in fondo lo sanno tutti che la cosa più importante di Halloween sono le decorazioni spettrali noi invece, Bex la cosa più importante di Halloween è decisamente il cibo a tema guarda queste merendine sono bellissime Lulu, lasciane un po' per la festa deve essere qui da qualche parte lo so che era qui ma dove può essere? sì abbraccio di gruppo! oh, grazie ne avevo proprio bisogno ma ve lo vorrete rimangiare questo abbraccio quando saprete che cosa ho fatto e dai, Charlie che sarà di tanto grave? già lo sai che ti vorremmo bene sempre e comunque ho perso i costumi di Halloween infatti su misura ho rovinato Halloween nessuno riuscirà a divertirsi ed è tutta colpa mia su via, Charlie i costumi devono essere qui da qualche parte già com'era fatta la scatola? era grande marrone e quadrata quindi era una normalissima scatola, vero? non è che proprio restringa il campo si sente già in colpa sii di conforto per lei oh, hai ragione forza ragazzi scommetto che se collaboriamo riusciremo a trovare quella scatola qui no! non la vedo neanch'io, Tilly teo? teo, no! stai bene, bello? oh, ehi e questa cos'è? Charlie l'abbiamo trovata sì diventeremo dei supereroi oh no questi non sono così male abiti da principessa volevo dei costumi da supereroi è un vero disastro non saprei il mio mi fa saltare in alto? ma non era questo il piano Halloween è rovinato te Charlie guarda è incredibile trovalo Halloween è salvo e vai è Grazie a tutti. Tadà! Ecco il mio progetto scolastico! Il tema era la famiglia e mi sono ispirata pensando ai bambini! Oh! Sono davvero fantastici! Sei proprio riuscita a catturare le loro espressioni! Ci avrei messo una vita a realizzarli! Già! Non vedo l'ora di mostrarle a tutti domani! Ora serve solo un posto sicuro perché possano asciugarsi! Ecco qua! Dovrebbero essere a sicuro da tutto qui sopra! Dovremmo festeggiare! Facciamo merenda! Sì! Oh non! Chi ha a fare... Il progetto! Sono distrutte! Non posso più presentarle per il progetto di domani! Che cosa faccio ora? Va tutto bene! Ci penseremo su! Perché non ti fermi un attimo e ti metti a riflettere sul progetto mentre io tengo d'occhio i bambini? Prendi una boccata d'aria! Troverai sicuramente un modo! Grazie! Grazie, è veri! Wow! Che disastro! Povera Charlie! Ci deve pur essere un modo per ripararle! Vero, bambini? Bambini, no! L'ultima cosa di cui Charlie ha bisogno è altro disordine! Oh, stai cercando di aiutare! Lulu, hai un gran genio artistico! Forza, bambini! Iniziamo a creare! Ottimo lavoro, bambini! Vedo l'arte in ogni dove! Ehi! Non ti mangiare l'arte, però! Siete pronti? Iniziamo a scolpire! Bravo! Teo! Wow! Avete fatto un lavorone tutti quanti! Un copolavoro! Fantastico! Incredibile! Ok, dovrò solamente dire al professore di arti che non ha un progetto pronto da consegnargli domani! Che succede? Ta-da! Wow! Bambini! Le avete fatti voi? Sono fantastiche! Sono fantastiche! Guarda questa! E quel purè di patate! Oh, wow! E questa qui sono io! Certo che sì! La adoro! Adesso sì che sembriamo una famiglia! Grazie, Everi! Grazie, bambini! Chi ci sta per una giornata alla spa? Già lo sai! Guarda quanta roba! Abbiamo ciò che ci serve per coccolarci! Abbiamo lozioni calmanti per massaggi rilassanti! Tutte le tinte che vogliamo per dipingerci le unghie, fiocchetti, sette, brillantini e persino creste! Abbiamo anche fighissimi adesivi per il viso! Diamo sfogo al nostro stile! Divertiamoci un po'! Tilly, stai ferma! Tilly, stai ferma! Fuori! Visto? Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Sei proprio cattiva quanto Tilly! Bene, dite spa! Oh, siete proprio belli! Fermi tutti! Cos'è? Wow, Tilly! Quello sì che è un brufolo davvero enorme! Guardate! Anche Deo e Lulu hanno dei brufoli! Ce li abbiamo tutti! Fermi! Fermi! Diamoci una calmata! Ma l'abbiamo già fatta la varicella! Ci sono! Abbiamo macchie solo dove abbiamo messo gli adesivi! Oh no! Solo per uso artigianale? Non usare sulla pelle? Oddio! E adesso? Veloci ragazzi, seguitemi! Le macchie sembrano già migliorate! Immagino che la prossima volta dovremo iniziare con un po' più di ricerca! Oh oh! Anche Gordon ha delle macchie? Gordon! No! 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 Ehi, bambini! Siamo tornate da scuola! Non è stato divertente! Ho avuto matematica, scienze e... No, 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 bambini! Cosa state facendo, bambini? Ho capito! Siete solo curiosi sulla scuola, vero bambini? No, 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 no! Credo che si siano fatti un'idea sbagliata sulla scuola! Lo so! Che ne dice se mostrassimo loro come ci si prepara? Così tra qualche anno sapranno subito cosa fare! Ottima idea, Avery! Forza, bambini! Prepariamoci! Prima di tutto bisogna lavarsi la faccia per iniziare la giornata Adesso prendete la divisa Che se elegante faccia una buona impressione ed esprima chi siete Provate voi! Wow, voi sì che farete una buona impressione Ora è importante fare una colazione sana prima di andare a scuola Ok, passiamo agli zainetti Ecco qua, bambini, i vostri zainetti personalizzati Vi servirà del cibo sano e gustoso per pranzare A me piacciono i panini, i succhi in brick, un frutto e un biscotto Cosa c'è nelle vostre scatole? Interessante! Gelato e salsicce È la mia scarpa, quella Non dimenticatevi di prendere tutto l'occorrente Vi serviranno libri, calcolatrici, matite Ci siamo, bambini! Adesso siete tutti pronti per la scuola È ora di andare Guardate, la scuolabus è qui Prossima fermata La scuola Eccoci, bambini Ci siamo Credo che la scuola gli piacerà molto Magari tra qualche annetto Pronti per un picnic? Picnic Oh no! Lolo ha strappato per sbaglio il vestito di Ellie Tutto bene, gli incidenti capitano Non preoccupatevi, possiamo comprare alla principessa Ellie un nuovo vestito estivo Cambio di programma, bambini Andiamo a comprare vestiti! Ma comprare i vestiti è davvero divertente! Sul serio! Lo so, perché non facciamo un negozio di vestiti proprio qui? In modo che i bambini possano vedere quanto è divertente Che bella idea, Bex! Facciamolo! Benvenuti alla Baby Boutique di Bex Cosa volete comprare oggi? Stiamo cercando nuovi vestiti per Ellie Splendido! Qui abbiamo magliette, top e giacche Gonne e i pantaloni sono laggiù Gli accessori sono nell'angolo E i vestiti si trovano al centro Sono qui se avete bisogno di aiuto Grazie commesso! Forza, bambini! Andiamo a fare shopping! Questa sì che è una bella maglietta! Cosa ne pensi, Ellie? È carina! Ottima scelta, Lulu! Carino! Bello! Carino! Ok, forse è arrivato il momento di provarli Come va lì dentro, principessa Ellie? Alta moda! Troppo caldo per il clima estivo Penso che la giacca sia un po' troppo lunga Leggero e colorato! Perfetto per l'estate! Cosa c'è che non va a Ellie? Preferisce il tuo vecchio vestito, vero? Posso dargli un'occhiata? Bambini, volete provare dei vestiti nuovi? Eleganti! Bello! Alla moda! Li prendiamo tutti, grazie! Non c'è problema, però credo che vi stiate dimenticando qualcosa! Hai sistemato il vestito di Ellie! Bisognava solo ricucirlo un po', visto? Ecco, ora è come nuovo! Beh, credo che alla fine non ci sia stato bisogno di comprare nuovi vestiti E ora possiamo goderci il nostro picnic estivo! Sembra che il picnic sia finito, gente! Come hai fatto a salire sul tavolo? No, no, Shungina! Quella torta al cioccolato è per la festa di compleanno di Avery! E è arrivato il momento per voi bambini di fare un pisolino! Tilly! Non fare la monella! Non riuscirai a dormire se mangi quella torta zuccherata! Sao che è difficile, bambini, ma se fate un buon pisolino potete mangiare la torta più tardi alla festa! Natte, bambini! Buon pisolino? Sogni d'oro! E' un buon pisolino! Ah, bambini! Che bello! Ah!!! Non c'è la! Hi! Hai, 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 hai! Ah! 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 Ah, 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 ah! Oh Che succede qui? È incredibile Quindi questo lo sposta e poi da questa parte... Oh no! Attenzione! Ehi, quella è la mia torta! Fermatevi subito! Fermatevi, bambini! Oh no! Beh, ha un sapore molto buono! Anche sulla tua faccia! Buon compleanno a te! Piccoli banditi, dovete venire con me! Adesso! Guardateli! Possiamo darvi un po' di queste tortine? Spiaciante, bambini! Quindi, se commettete un reato, dovete scontare la pena!